...questo secondo incontro del 2009 e richiamerei subito tutti in pista da Giorgio e Paola, Matteo e Patricia, Sebastian e Mariana se riescono a fare un quarto brano, ma sicuramente ce la fanno. Il brano per tutti, io vado e non vi vedo uno, mi faccia un cenno, il brano per tutti è del grande maestro Juan D'Ariezzo. Il brano per tutti. 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 tutti questi ragazzi che ci hanno deliziato con le loro esibizioni. per tutti. il brano 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 per tutti.